Entra a la corte, esamina il caserio, e gli domanda se si era pentito. Cinque minuti m'avessero dato, io un altro presidente avrei ammazzato. Lo conoscete voi, vostro pugnale, se lo conosco, che hai le mani qua al rotondo, nel cuore di Carolla a te, ne trago a fondo. Li conoscete voi, vostri compagni, Sì, li conosco, e io sono della narechia, che aver io fai fornaio, e nulla spia.